Si diceva che sul lungomare fosse comparsa una faccia nuova, una signora con un cagnolino. Dimitri Dimitric Guriov, che era a Yalta da due settimane e ormai si era abituato alla vita del villeggiante, si dimostrò subito incuriosito alla notizia di una faccia nuova. Un giorno, seduto nella veranda del caffè Vernet, vide passare sul lungomare una giovane donna bionda, di statura media, con un berretto, seguita da un volpino bianco. Da allora cominciò ad incontrarla più volte al giorno, nel giardino pubblico o in piazza. Nessuno la conosceva. La chiamavano semplicemente la signora col cagnolino. Eh, se è qui senza marito e senza amici, pensò Guriov, non sarebbe male avvicinarla. Benché non avesse ancora quarant'anni, aveva già una figlia a dodicenne e due figli al ginnasio. Si era sposato presto, al secondo anno d'università, e adesso la moglie sembrava avere il doppio della sua età. Alta, con sopracciglia nere, impettita, posata, amava definirsi una donna che sa usare la testa. Leggeva molto. Quando scriveva aveva certe sue manie. Per esempio, al nome del marito aggiungeva una I. Dimitri invece di Dimitri. Guriov la trovava poco intelligente. Limitata. Senza eleganza. Ne aveva soggezione. Perciò stava a casa il meno possibile. Aveva cominciato a tradirla da molto tempo. La tradiva spesso. Probabilmente per questo aveva una pessima opinione delle donne e quando si parlava di loro in sua presenza, le definiva razza inferiore. Gli pareva che la sua esperienza, abbastanza lunga e spesso penosa, gli desse diritto a non andare per i sottili nel definirle. Certo è che senza la razza inferiore non avrebbe potuto resistere un solo giorno.